...di ieri che ovviamente ricordiamo in questo primo maggio, festa dei lavoratori, morti anche di oggi purtroppo Marco Ciani, segretario provinciale Alessandria Asti della CISL, proprio qua ad Alessandria c'è stata l'ennesima vittima sul lavoro, 12 solo in Piemonte, solo dall'inizio dell'anno, una piaga su cui bisogna tenere un riflettore acceso. Sì assolutamente, è un disastro totale, noi il 29 di aprile, proprio la giornata dopo, il giorno in cui si ricordano appunto la sicurezza sul lavoro e le vittime dell'amianto abbiamo assistito a questa tragedia nel cantiere di Amazon, una persona, un operaio albanese schiacciato sotto un trave, un ferito grave, altre quattro persone finite in ospedale, purtroppo ancora oggi nel 2021 si può morire per lavorare, addirittura abbiamo più morti in questo periodo del 2019, quindi una tragedia che non ci consente purtroppo di festeggiare il primo maggio, su cui dovremmo ancora intervenire perché non è accettabile nel 2021 che di lavoro si possa morire. C'è un'altra attenzione su Casale, Cerutti, lunedì potrebbe essere un giorno decisivo? Sì, lunedì potrebbe essere un giorno decisivo perché è il termine per la presentazione delle offerte di interesse da parte di soggetti che potrebbero rilevare Cerutti. 256 famiglie col fiato di fatto sospeso, speriamo che ci sia una soluzione.